bellissima, da leggere. Contando i miei anni ho scoperto che ho meno tempo da vivere da qui in avanti di quanto non ne abbia già vissuto, mi sento come quel bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha mangiate velocemente, ma quando si è accorto che ne rimanevano poche ha iniziato ad assaporarle con calma. Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che nonostante la loro età anagrafica non sono cresciute. Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli invidiosi, che cercano di screditare quelli più capaci per appropriarsi dei loro posti, talenti e risultati. Voglio vivere accanto a della gente umana, molto umana. Che sappia sorridere dei propri errori. Che non si gonfi di vittorie. Che non si consideri eletta, prima ancora di esserlo. Che non sfuba le proprie responsabilità. Che difenda la dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte della verità e dell'onestà. L'essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta. Sì, ho, fretta di vivere con intensità, che solo la maturità mi può dare. Pretendo di non sprecare nemmeno una caramella di quelle che mi rimangono. Sono sicuro che saranno più squisite di quelle che ho mangiato finora. Il tempo che abbiamo a disposizione è gratis ma è senza prezzo. Non puoi possederlo ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso non puoi più averlo indietro. Il mio obiettivo è arrivare alla fine soddisfatto e in pace con i miei cari e con la mia coscienza. Spero che anche il tuo lo sia, perché in un modo o nell'altro ci arriveremo tutti insieme per un futuro migliore. E ricorda sempre, prima di discutere, respira. Prima di parlare, ascolta. Prima di criticare, esaminati. Prima di scrivere, pensa. Prima di far male, senti. Prima di arrenderti, prova. Prima di morire, vivi. Cuore rosso.